Antonio Ceroni, Catanzaro non riesce a portare a casa una partita dove sia Villa che i tuoi ragazzi hanno combattuto fino alla fine? Sì, credo che i ragazzi avessero nel campo messo quella giusta determinazione, quella cattiveria e soprattutto la giusta mentalità per giocare una partita intensa, sia difensivamente che offensivamente parlando e credo che forse avrebbero meritato anche qualcosa di più per l'impegno e per la voglia che ci hanno messo, però alla fine ha vinto la squadra e che ha meritato di più. Un quarto quarto decisivo, hai perso per falli sia Dolce che Markovic, il punteggio era sempre in parità, secondo te lì è stata la svolta della partita? Credo che oggi sinceramente Markovic è stato un giocatore che non ha inciso come il suo solito, il resto della squadra secondo me ha giocato e ha sopperito bene alla sua non buona giornata, quindi credo che non sia determinante la loro assenza. Prossimo impegno contro la Viola, è importante fare un buon risultato sia per la classifica che per la seconda fase? Certo, noi sabato vogliamo andare a giocarci la partita con la Viola che è una squadra giovane come noi, quindi una squadra che metterà con la giusta intensità e ci metterà in difficoltà, credo che questa è una squadra che secondo me deve ancora crescere dal punto di vista dell'esperienza, cioè ancora pecchiamo in alcuni momenti e soprattutto in alcuni momenti importanti della partita di scarsa lucidità, quindi da questo punto di vista dobbiamo migliorare perché comunque troveremo una squadra agguerrita che non ci concederà nulla. Grazie mille, in bocca al loro il resto della stagione. Grazie a voi.